bentornati ad una nuova puntata di chiaro talk il video post video perché non ho mai detto video podcast oggi ho detto me lo dico non si deve dire bentornati ad una nuova puntata di chiaro talk questa settimana parliamo di sport ma parliamo del lato più bello e inclusivo dello sport perché ho il piacere di avere con me faccio finta anche di fare i convenevoli il professor marco laverghetta che è il delegato provinciale del chip che il comitato italiano paralimpico facciamo finta di non conoscerci assolutamente però diciamo è bello poter fare delle chiacchierate con con amici che insomma si danno da fare in qualcosa tu sei insegnante ma oggi sei qui per parlare proprio del del chip comitato italiano paralimpico che trova sempre la sua esplosione nei momenti magari accogli appuntamenti importanti ma che poi in realtà bisogna far conoscere bene innanzitutto vi ringrazio per l'invito e porgo i saluti del presidente regionale maro sciulli e di tutta quanta raggiunta insomma ecco le come il coni diciamo è organizzato anche negli aspetti nazionali e territoriali anche il chip che diciamo possiamo dire che è parallelo sono cugini come sono il rapporto coni e chip no assolutamente sono cugini e lavorano in sinergia chiaramente il coni nell'ambito dei normodotati e il chip nell'ambito paralimpico ecco allora una cosa fondamentale perché poi spesso capito quando si parla si scrive un articoli facciamo un po di vocabolario perché diciamo l'inclusività la disabilità la diversità normodotati paralimpici ogni tanto si legge portatore di disabilità come se non lo porta sulle spalle allora i termini giusti perché poi diciamo l'italiano è una lingua cioè le sue parole nell'ambito sportivo sicuramente dire atleta paralimpico è la cosa ci fa capire quella che è la distinzione no diciamo è assolutamente chiara e perché c'è questa distinzione sulle terminologie cioè tanti anni fa c'era portatori di handicap che era proprio brutta anche da sentire infatti in passato c'era la federazione sport handicap che chiaramente era brutta diciamo così poi per quanto riguarda quella che la promozione della cultura sportiva paralimpica anche in italia appunto si è voluto formare creare questo comitato italiano paralimpico che potesse dare la giusta dignità e dimensione agli atleti presente nazionale lo ricordiamo per chi non lo sapesse un personaggio stranoto carismatico e mi dico luca pancalli che è veramente uno che insomma per lo sport proprio è stato sicuramente lui il fautore di tutto il percorso che ci ha portato appunto dalle federazioni sportive handicap al comitato italiano paralimpico e a farlo diventare un ente pubblico quindi con una sua importanza e staccandolo chiaramente dal dal coni nel rapporto col coni poi diciamo siete camminate parallelamente sì sì anche perché come tutti quanti vedono ci sono olimpiadi e subito dopo paralimpiadi e questo si staccano semplicemente perché ci sono delle problematiche logistiche che ovviamente devono essere curate e quindi c'è bisogno di questo stacco anche perché dal punto di vista delle discipline e qui entriamo magari un po' nello specifico ci sono molte discipline che fondamentalmente si svolgono allo stesso modo e sono comuni e sono comuni e credo che anche le federazioni spesso siano le stesse che poi lì quel chip diciamo l'organismo generale poi ogni federazione come come funziona lì che diciamo che ogni federazione può avere l'ambito normo dotato e l'ambito paralimpico e ci sono alcune federazioni che invece sono sono staccate questo perché sono scelte ma sono scelte a volte perché non c'è proprio la la disciplina la disciplina a volte invece diciamo che sono scelte di ordine pratico però diciamo che negli ultimi anni tutte le federazioni ormai stanno accogliendo sia normo che che paralimpico è un processo di di crescita e tu oltre che insomma delegato provinciale sei anche tecnico e sei tecnico di tirassegno sei preparatore di tirassegno della nazionale paralimpica nell'unione italiana tirassegno è unica è unica esattamente anche qui sotto un percorso prima eravamo in una federazione poi siamo uniti nell'unione italiana tirassegno sicuramente diciamo ecco il tirassegno si fa per alcuni tratti in modi diversi ma anche se fondamentalmente più o meno fondamentalmente lo stesso il luogo è lo stesso la linea di tira lo stessa le strumentazioni di tiro sono le medesime cambia chiaramente se si è in carrozzina ma ci sono atleti con amputazione degli arti inferiori che possono liberamente scegliere se tirare seduti o tirare in piedi con norma totale differenza può essere che magari non so per il tirassegno animali per i non vedenti che invece di vedere il bersaglio dove sparare hanno dei sistemi si hanno una strumentazione molto sofisticata a infrarossi dove la persona non vedente va a sparare sentendo il bersaglio con delle frequenze che cambiano dal basso dagli altri ci sono chiaramente sport che sono solo per i normo dotati diciamo forse anche per forza di cose sport e sono comuni ma ci sono anche discipline e addirittura discipline olimpiche se non sbaglio che sono solo in campo paralimpico esattamente anche qui però per scelta perché esempio la boccia paralimpica c'è solo alle paralimpiadi ma la boccia non c'è negli olimpiadi boccia paralimpica cioè come la boccia la boccia paralimpica anche qui dipende dal tipo di disabilità che abbiamo di fronte solitamente possono lanciare la palla chiaramente da seduti o con le mani o con i piedi e nel momento in cui non non si ha la forza per poter lanciare la palla si utilizzano un supporto di schermo a scivolo che permette anche a chi non ha l'utilizzo delle degli arti superiori o uno scarso utilizzo di poter spingere semplicemente con il dito o con una bacchetta la la pallina su questo scivolo e quindi andare a giocare le bocce che voglio dire uno sport poi riconosciuto dalla federazione non è alle olimpiadi perché poi non è che tutti gli sport esistenti sono inseriti nei programmi dipende anche dal numero di praticanti molti sport entrano escono come il karate nelle ultime olimpiadi sono state il karate e nelle prossime non ci saranno e è chiaro che diciamo la diffusione e anche la cultura no perché poi come per ogni cosa in cui c'è una qualunque tipo di diversità la cultura e la conoscenza sono quelle che avvicinano e credo che negli ultimi le ultime tre olimpiadi barra paralimpiadi è cresciuta questa consapevolezza in italia assolutamente sì questo sia grazie al comitato italiano paralimpico sia anche agli atleti pensare a zanardi bebevio che comunque hanno avuto un impatto zanardi con tutto quello che ha fatto a livello paralimpico credo che l'esplosione di bebevio sia stata un diciamo forse è stata quella che ha scoperchiato poi il mondo perché poi adesso penso alle ultime parolimpiadi sono emersi anche tutta una serie di personaggi sportivi che ormai sono sono famosissimi nell'immaginario collettivo sono al pari dei campioni olimpici ma se vediamo anche le varie i vari brand ormai si affidano a loro per sponsorizzare i loro prodotti sia alimentare che di abbigliamento quindi ormai c'è questa cultura paralimpica che diciamo che ha preso piede insomma ha preso piede però diciamo poi a quel lavoro è difficoltoso perché è chiaro che serve un po' di impegno in più magari a volte servono delle strutture in più ma serve partire dalla base è quello che stiamo che sta facendo il comitato soprattutto nelle scuole perché da lì che si inizia a fare veramente la cultura paralimpica sia a livello inclusiva sia a livello di promozione dell'avviamento della pratica sportiva paralimpica con vari progetti che noi è un cambio di mentalità che a volte anche parlando con le associazioni che sono anche sul nostro territorio che si occupano di dire bambini ragazzi che hanno qualche difficoltà di qualunque tipo è anche un cambio culturale no fino magari a 20 30 anni fa la persona disabile era tenuta chiusa in casa come a volte con una retro cultura forse anche più nelle parti del sud no come quasi una vergogna ma poi soprattutto c'era una difficoltà di gestione uno pensava oddio adesso che succede andando avanti con questi aspetti culturali tutto più specialmente per quanto riguarda l'isabilità intellettiva e relazionale che una disabilità fisica tutto sommato alla fine se si voleva fare sport in qualche modo ci si riusciva l'isabilità fisica intellettiva e relazionali si aveva sempre questa reticenza a nascondere adesso invece diciamo che le attività sportive i campionati i campionati sportivi studenteschi eh permettono a tutti i tipi di disabilità non solo ai fisici ma soprattutto anche alle intellettive relazionali di poter avere il loro il loro spazio e anche il loro momento di di sport nel pomeriggio insomma anche perché io credo che valga il discorso esattamente uguale per tutti cioè se per diventare atleti di un certo livello è importante iniziare da ragazzini e fare una pratica sportiva costante e misurata nel tempo e vale la stessa cosa quindi se un ragazzino diciamo non fa l'attività paralimpica magari fino a 18 anni non ha mai praticato sport è difficile poi no che ottenga anche dei risultati quindi è importante sia per un sviluppo no proprio psicofisico che ha ma poi anche per costruire dei percorsi di anche di campioni però in questo caso anche iniziale tardi non è un problema l'importante che il ragazzo o il bambino possa iniziare un percorso di attività sportiva poi diventi campione o meno magari però l'importante che loro abbiano il loro spazio di attività sportiva che i bambini norma hanno nel senso che vanno al calcio vanno al tennis senza problemi ci sono queste realtà nella nell'ambito paralimpico iniziano a esserci sono ancora un po pochine però è importante che loro abbiano questa routine sportiva sono poche perché manca la volontà mancano i tecnici formati mancano le strutture apriamo un calderone manca un po tutto però diciamo che i tecnici con cui io mi confronto sono comunque aperti e disponibili a formarsi le strutture a volte si hanno dei limiti che sono di carattere di accessibilità però diciamo che tutto è superabile tutto è superabile e a volte è anche la scuola che deve essere un pochino più attenta nel creare un'offerta formativa anche per l'attività paralimpica anche perché uno dei temi dei termini che si accompagna sempre allo sport è quello dell'inclusività a volte questo rischia non so di essere uno spot uno slogan ma ad esempio no penso ad una classe dove c'è magari un ragazzino una ragazzina che ha qualche difficoltà fisica l'inclusività in quel caso nelle attività sportive c'è tutta la squadra gioca a pallavolo se io sono in carrozzina come la fai come facciamo giochiamo tutti a sitting volley oppure lo facciamo anche lì non è l'approccio sicuramente è importante includere sempre e comunque è chiaro che si fa un avvicinamento alla pallavolo partendo dal sitting volley però è chiaro che poi i ragazzi normo devono anche poter sperimentare l'attività normale però ci vuole sempre un giusto equilibrio insomma e anche perché insomma se no poi rischia di passare come una concessione che sto facendo siccome magari una volta all'anno facciamo l'attività che che tu puoi fare durante il resto quindi bisogna dipende da come lo pone il docente nel senso che anche lavorare a sitting volley allena determinate segmenti e nel nell'atleta normodotato quindi e come si organizza l'attività come il docente organizza attività e come viene proposta attività e un po anche compiomare ecco delle federazioni penso ad esempio c'è stato l'anno scorso due anni fa il progetto del tennis tavolo qui a basto sì lì come come funzionava la federazione su questo punto di vista veramente sono sono molto recettive dal punto di stato l'alimpico nel tennis tavolo qui a basto sempre un progetto dato due progetti uno solo del tennis tavolo del chip in cui ha collaborato il tennis tavolo dove quello del tennis tavolo portava alla mattina a scuola un'attività totalmente inclusiva di tennis tavolo paralimpico dove ci si avvicina una disciplina la si conosceva e poi si giocava e si giocava come il tennis tavolo si presta anche a livello scolastico perché comunque permette di avere sempre quei 10 11 tavoli quindi giocano tanti ragazzi insieme permetteva di giocare tranquillamente normodotati e ragazzi con disabilità quello invece del pomeriggio è stato il progetto del chip lo sport paralimpico a scuola è un avviamento della pratica sportiva l'alimpica quindi destinato soltanto ai ragazzi con disabilità e qualcuno potrebbe dire non è inclusivo no assolutamente no ma quello è proprio un avviamento e permettere anche perché poi forse torniamo al ragionamento di prima se poi tu vuoi fare un'attività il pomeriggio tu ti troverai ad allenarti e a misurarti con atleti che hanno la tua stessa disabilità ma soprattutto dare a loro una routine pomeridiana vado oggi vado a fare l'attività sportiva sportiva anche perché immagino che sia soprattutto a comando in una grande città è più facile avere eh società organizzate magari a vasto o in un altro centro piccolo un ragazzino che vuole giocare a calcio andare a fare attività eh di calcio è difficile che la scuola calcio riesca sempre a coinvolgere no credo oggettivamente dipende anche questo è la volontà perché è chiaro che gli sport con disabilità fisica di squadra eh ne 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 deve avere tanti e quindi è difficile trovarli però sulla disabilità intellettiva relazionali i numeri eh ci sono nelle scuole per poter avviare una palla a volo ehm che la federazione si chiama la FISDIR palla a volo un calcio un basket quindi eh sulle stesse disabilità fisiche nei piccoli centri è più facile lo sport individuale e sulle disabilità intellettiva relazionali c'è più c'è più possibilità infatti credo che sia un po' più semplice poi eh se sei in una piccola città avviarti a una disciplina da solo quindi moto bicicletta eh diciamo che piuttosto che teni ma anche perché parlando proprio di vasto eh i ragazzi con disabilità fanno prettamente sport individuali appunto nuoto boccia tirassegno sul sull'attività di gruppo stiamo stimolando ma penso al basket in in carrozzina eh a Lanciano abbiamo due amiche Lorena Ziccardi e Ilenia Colanero che fanno centomila sport sì sì a testa Lorena che gioca basket è anche delegata credo che la squadra non mi ricordo se è a campo basso forse dalle parti di Giuliano di Giuliano c'è una c'è una squadra in tutto l'Abruzzo quindi se vuoi andare a giocare su Pescara adesso stanno tentando di fare una squadra di rugby in carrozzina quella Fispes però ripeto è sempre abbastanza complicato i numeri diciamo come il bacino d'utenza è un po' condiziona questa cosa questo salto ecco abbiamo parlato degli atleti che sono sicuramente diciamo importanti perché come quando non so l'Italia vince i mondiali di palla a volo tutti si iscrivono a palla a volo perché sono un esempio per gli atleti paralimpici può essere lo stesso penso al nuoto abbiamo Barlam che è stato anche a fare credo uno stage qui con i ragazzi avere questi esempi stimolano poi gli altri a dire cavolo ma nel nuoto sicuramente siamo una potenza mondiale la FIMP ormai vince il medagliere europeo e mondiale lì la federazione è diversa? sì però lavorano in sinergia infatti si si poi si riconoscono i brevetti quindi diciamo che si lavora in sinergia e ripeto il nuoto è sicuramente una delle colonne portanti in Italia dello sport paralimpico perché è uno sport singolo quindi forse più semplice da gestire? sì ma perché le piscine sono diffusissime in ogni paese e chiunque da solo trova un tecnico esatto e a livello invece di preparazione dei tecnici chiaramente tu penso la tua esperienza personale con il tiro a segno se sia nello staff diciamo hai seguito anche gli atleti normodotati che la nazionale paralimpica di cui fai parte lì la preparazione del tecnico come cambia? ma sicuramente molto soprattutto nell'ambito paralimpico viene dato dalla base di studio universitario perché comunque devi stare attento non solo alla performance ma anche alla vita quotidiana cioè se io faccio un lavoro di preparazione fisica che poi ha un sovraccalico muscolare normodotato lo assorbe il paralimpico che non si alza dal letto quindi bisogna avere una particolare attenzione a tutto quello che le componenti della patologia la farmacologia cosa prende cosa non prende quindi sicuramente la formazione universitaria è stata importante da questo punto di vista e poi chiaramente la formazione che dà la singola federazione. Hai parlato un attimo della farmacologia l'assunzione di farmaci che magari per un atleta paralimpico ha bisogno a volte di prendere dei medicinali che potrebbero essere nella lista del doping per i normodotati ci sono differenze perché magari non so sul dolore oppure la lista è quella e non si sgarra? Allora nel momento in cui un atleta deve prendere per motivi terapeutici il farmaco comunque viene richiesta un'autorizzazione che deve essere data da parte dell'ufficio doping del CONI e della vada e poi può assumerlo anche se a volte ci sono dei farmaci che comunque non possono essere. Ok quindi bisogna un po' organizzarsi. Esatto e in Abruzzo diciamo il CIP va avanti c'è il presidente Mauro Sciulli che ci mette veramente anima e cuore c'è insomma i due delegati provinciali che gesti tutte le attività lo stato di salute ecco magari andando in giro con la nazionale poi hai modo di guardare anche le altre regioni come siamo messi? No siamo sicuramente a buon punto le le attività che siamo riusciti a fare in questi ultimi due anni e che stiamo continuando a fare sono un punto importante abbiamo fatto due anni il camp paralimpico regionale per sia pediatrico che per ragazzi e per adulti abbiamo quest'anno per la prima volta arrivato anche qui in inverno il camp nazionale. Nonostante i problemi con la neve che si è stato spostato però è stato un successo veramente clamoroso siamo usciti da tutto il centro sud perché era risalto dal centro sud sono venuti anche dei ragazzi della zona tutti i tipi di disabilità sia fisici che sensoriali quindi diciamo è stato un grande successo a breve avremo la settimana paralimpica a Pineto contestualmente c'è tra il radutore nazionale di paraciclismo a Francavilla del tecnico CT che... Beh sul paraciclismo insomma con adesi andiamo forte. Sì sì assolutamente. Lui che fa ogni tanto c'è che continua? Lui attualmente è il CT della nazionale e quindi speriamo che... Beh diciamo insomma è stato... È stato un grande atleta e adesso abbiamo una persona che ha vissuto la... la nazionale come atleta adesso come CT conosce la perfezione del mondo paralimpico e quindi... Poi abbiamo i fratelli Pizzi che credo che continuano ancora quindi insomma quindi diciamo anche a livello di personaggi no? Di spicco... Penso anche nel tennis Antonio Cippo insomma che... Beh parliamo di tennis diciamo diciamo un pensiero anche purtroppo a Silvestrone Assolutamente. È stata una tragedia enorme. Lui è uno di quelli che eh il cui esempio diciamo era uno di quelli che stimolava. E ha portato in giro non solo in Abruzzo ma in tutta Italia la sua testimonianza nelle scuole anche qui a Vasto è venuto. Sì. Quindi è stato comunque un grande campione un grande esempio per tutti e... Insomma una tragedia immane che insomma il mondo in generale ha perso lui e e i suoi due figli purtroppo e anche il mondo paralimpico perché era uno poi sempre disponibile. Assolutamente. Diciamo era davvero una risorsa no? Per la diffusione soprattutto anche come esempio perché credo che forse anche nel nel mondo paralimpico più che in quello dei normodotati eh per un giovane o per una persona che magari ha difficoltà uscire dal guscio avere degli esempi. Soprattutto la propria testimonianza è sicuramente importante e era era sui ragazzi diciamo che la testimonianza di un atleta paralimpico lascia un segno forse più profondo. Cioè diciamo voglio dire sempre per tornare a Bebevio, vedere Bebevio che nelle condizioni in cui vince i medagli olimpiche c'ha un'energia, supera tutto, cioè veramente dici beh ma si può fare, non esistono veramente limiti. Stessa cosa insomma tu hai questo contatto molto più stretto con gli atleti del tiro a segno e anche lì ci sono esempi di di forza, soprattutto di chi, perché poi ecco una delle grandi distinzioni forse è tra chi nasce con la disabilità e che quindi diciamo magari anche se sin da picco inizia ad abituarsi a quello che è e invece ci sono anche casi di chi a un certo punto della sua vita per qualche disastro, incidente si trova nella condizione e nella tua esperienza è più, quale più, cioè c'è una tipologia più semplice da gestire? Ma sicuramente chi nasce con una disabilità diciamo che affronta dei problemi ma quando poi arriva da noi comunque a 20-25 anni comunque l'affronta in maniera diversa, però posso dire che tutti coloro che hanno avuto un incidente e quindi sono diventati disabili l'attività sportiva l'ha aiutata in maniera a trovare magari eccezionale insomma quella realizzazione che è magari nel resto anche se poi non sono arrivati nazionali, però comunque il fatto di essere protagonisti di uno sport a tutti i livelli per loro è una grande risorsa Quello che manca al mondo paralimpico è un po' quello che manca anche al mondo dell'attività normale normodotata, quindi strutture, attenzioni Beh, un po' di più Qualcosina in più sicuramente però diciamo che su questo si sta lavorando ma non può lavorare solo il chip, deve lavorare anche le istituzioni insomma In questo il rapporto con la scuola forse è ancora più prezioso quello che voi riuscite a instaurare con le scuole perché magari ecco per la diffusione dello sport di base se, non so, penso a base ci sono 2000 società di calcio, di pallavolo e quindi insomma se un ragazzino vuole fare attività sportiva ha una molteplicità di sport e di discipline a cui rivolgersi nell'attività paralimpica ce ne sono di meno e quindi magari ecco quello che si riesce a fare con la scuola e con i progetti diventa un po' più incisivo Sì, sì, anche perché poi nel mondo scuola qualche contributo c'è anche per l'acquisto di materiale specifico per l'attività paralimpica le scuole possono realizzare un accordo quadro col chip e quindi proporre in qualsiasi sport vogliono far praticare ragazzi sia normo che para quindi su questo, sui progetti scolastici, attenzione c'è Da quando abbiamo dimenticato di dire che sei nel tirassegno perché nasci tiratore con una molteplicità di titoli regionali ma hai vissuto anche delle trasferte importanti in Francia e in Australia ecco, partire per queste trasferte, il grado di complessità aumenta perché voi avete anche le armi, quindi diciamo ancora peggio attrezzi di tiro, noi per il momento solo aria compressa però diciamo immagino quando si arrivi in Australia che solitamente diciamo lì sequestrano anche se è un biscotto, quando vedono queste cose gliela dovete spiegare prima però ecco, oltre a quello, alle attrezzature sportive e tutto il resto avete magari le carrozzine, difficoltà, diciamo sono momenti sì, sono trasferte comunque complicate perché le carrozzine sono quelle per spostarsi e quelle da tiro quindi ognuno ne ha due che sono molto delicate e il viaggio in aereo noi le imballiamo nel miglior modo possibile però gli addetti degli aeroporti non sono notoriamente dei gentleman quindi a volte capita che arrivi e trovi la carrozzina piegata e quindi poi devi cercare di aggiustarla, adattarla con i tecnici che se ne occupano comunque anche l'ingresso delle attrezzature di tiro è comunque un momento delicato in Australia soprattutto in Francia si è andati con i pulmini sì, in Francia si è andati con i pulmini anche lì è una trasferta completa, un pulmino pieno di attrezzature un pulmino con l'attrezzatura di sabine però quando l'esperienza è che comunque ti mette a disposizione degli attriti non solo come tecnici ma soprattutto come uomo e quindi è quello che ti fa crescere veramente sono momenti in cui si crea la squadra sono momenti anche divertenti immagino che ci siano qualche difficoltà in più da superare quindi su una sosta in autogrill chi deve andare in bagno da gestire gestiamo tranquillamente noi ma loro hanno piena fiducia noi tutti i ragazzi quindi a volte capita che noi diciamo quello che succede in ogni squadra succede anche lì e magari ci sono aneddoti, episodi che insomma sono simpatici immagino sì 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 e nel tirassegno adesso visto che insomma li segui un po' più da vicino chi c'è sotto mano che... vabbè... che perché insomma Parigi... tra l'altro adesso arriva Parigi che è anche vicina quindi ti... sicuramente Andrea Liverani che è la punta che è già la punta di diamante però c'è Roberto Lazzaro c'è Gagallina che sono Iacus sono tutti ragazzi giovani che proveranno a prendere lo slot per Parigi entro quest'anno insomma o l'anno prossimo anche perché immagino con un'Olimpiade così vicina Paralimpiade nel vostro caso così vicina quindi diciamo anche la porta della squadra azzurra sarà... anche perché molto una buona metà dei ragazzi che hanno stato in Francia il 2018 conoscono già il poligono francese che è a Chaterrault che è un posto bellissimo solo dedicato al tirassegno dove si faranno appunto le Olimpiadi e le Paralimpiadi e invece nella nostra regione il punto di diamante c'è di atleti paralimpici sia magari giovanissimi che è un po' più... vabbè abbiamo Ilenio con la Nero che fa ogni volta che va in acqua fa un record di apnea poi adesso si è data la bicicletta sta aspettando insieme a... ma anche lì a Lorena stanno aspettando lì ogni tanto le vediamo sulla pista ciclabile che si allenano quindi stanno aspettando che arrivi il giro per dare filo da torcere loro sono insomma già più male ma sicuramente come dicevo prima Antonio Cippo che punta a prendere questa slot olimpica paralimpica deve rientrare e fa i primi 45 del mondo se non ricordo male e quindi sta lavorando per questo obiettivo e nel tiro a segno abbiamo un paio di ragazzi che sono di Sulmona, Giulia Valdo e Camarra che hanno preso medaglie ai campionati italiani e Alessandro Camarra l'ha preso sia ai campionati italiani estivi che invernali e quindi Parigi no però magari una convocazione chi lo sa se continuano a lavorare così altri sport c'è qualche talento che emerge? altri sport sì ci sono alcuni atleti dell'atletica della FISDIR di Chieti che hanno ben figurato negli ultimi mondiali estivi e questo poi c'è da lavorare continuando a diffondere un po' il vostro ruolo di delegati è quello di andare in giro sia su iniziative, nelle scuole, nelle società sportive e promuovere lo sviluppo sia della pratica che della cultura paralimpica a volte magari basta anche una società sportiva che dice ok avventuriamoci per attirare un po' di ragazzini quindi è lì se nessuno mai parte nessuno pensa che si possa fare in questo un po' ecco gli appuntamenti promozionali quindi queste settimane dello sport iniziativa scuola forse sono importanti per far capire prima è importante che le società vogliono aprirsi all'aspetto paralimpico a volte uno scoglio dice ma che gli faccio fare non sono in grado però ripeto la formazione da parte delle federazioni c'è ma la scintilla deve essere la voglia di fare e poi immagino che insomma come CIP siete a piena disposizione assolutamente se c'è qualche questo può essere anche un appello tutte le società sportive che sono nel nostro territorio e che magari ecco vogliono aggiungere dare anche un servizio in più ma magari ecco anche ricevere soddisfazione perché magari non lo sanno ma nel loro territorio c'è il futuro campione paralimpico e sta lì se non li facciamo incontrare e provare sperimentare tra virgolette sporcarsi le mani per vedere come come si ci si approccia a questo tipo di disabilità insomma lo sport perché alla fine lo sport comunque include e una volta che vinci quella prima paura il tecnico poi anzi si appassiona e sicuramente le soddisfazioni diciamo da tecnico sembra quasi fare una distinzione dice che è più soddisfazione con gli atleti non dormodotati o con gli atleti paralimpici si può fare una distinzione oppure poi sono uguali oppure magari per l'atleta paralimpico sapendo che ha dovuto superare qualche difficoltà in più sono maggiori sicuramente sono maggiori sicuramente sono maggiori però diciamo che vedere come e quanto si applica un atleta con disabilità dello sport è comunque qualcosa che anche personalmente ti segna insomma e quindi insomma alla fine come dicevi basta un po' buttarsi e superare ecco a volte le difficoltà perché magari un tecnico non può immaginarsi di diventare bravo anche perché tu hai iniziato prima poi avvicinati a questo mondo è chiaro che ci sono le paure è chiaro che all'inizio si può anche sbagliare fare qualche errore però ripeto un po' in tutti i casi tutti i tecnici che vogliono avvicinarsi a questo mondo secondo me devono vincere la loro paura e provare sperimentare l'obiettivo principale è quello di avvicinare più persone possibili attività sportiva poi se qualcuno se diventano campioni ancora più contenti bene io ringrazio Marco Laverghetta che è il delegato provinciale di Chieti del comitato italiano paralimpico salutando lui ringrazio tutti i delegati e soprattutto il presidente Amaro Sciulli che prima o poi faremo venire da queste parti magari aspettiamo che Port ci porta qualche medaglia magari non è l'Olimpiadi perché passano due anni però insomma di cose da fare ce ne sono io vi ringrazio grazie per averci seguiti e ci vediamo a una prossima puntata di Chiaro Talk